Senz'altro la pandemia è stata all'inferno, su questo possiamo essere, credo, tutti d'accordo. Beh, è stata un inferno per i 130.000 morti, per i loro familiari. È stata una morte molto dolorosa, sono morti da soli, tanti familiari non hanno potuto dire loro oddio, ma neanche celebrare il funerale. E per questo noi dobbiamo rispetto alle vittime e ai familiari delle vittime. E allora forse, Aldo, potremmo dire che il Green Pass è il purgatorio? Beh sì, nel senso che, allora, per noi, per quelli tra di noi che non sono stati sfiorati direttamente, che non hanno avuto il Covid, è stata una specie di purgatorio, perché bisognava stare in casa, bisognava stare chiusi. Dante in purgatorio cerca la libertà. Libertà va cercando che sii cara. Libertà dalla paura, dalla malattia, dalla morte, dal peccato. Però per Dante, Dante scrive una cosa bellissima, dice La libertà è il più grande dono che Dio ha fatto alla natura umana, perché grazie alla libertà siamo felici in terra come uomini e in cielo come dei. Stupendo. Però per Dante libertà non è fare quello che ci pare, è voler fare ciò che si deve fare. Siccome Dante è eterno, Dante ovviamente non sapeva nulla di vaccini e di Green Pass, però enuncia delle regole, enuncia delle idee, dei sentimenti, che sono i nostri sentimenti, i nostri problemi, i nostri peccati. Dante è eterno, come i veri grandi. E quindi noi caliamo la sua lezione nel nostro presente, ricordiamoci che l'85% degli italiani che potevano farlo si è vaccinato. L'80% ha già due dosi, il 5% ne ha una sola. La scelta di quella libertà che tu dicevi essere la ragione poi del purgatorio, no? Cioè io sto lì in attesa della libertà. Dopodiché però ti chiedo, c'è stata una sottovalutazione da parte del governo di un sentimento che cresceva nel paese? Dimmi intanto sì o no, perché poi articoliamo anche guardando le proteste che ci aspettano. Secondo me no, secondo me il governo si è mosso in modo pragmatico. Non ha detto dovete vaccinarvi. Ha detto avete la libertà di non vaccinarvi, però non avete la libertà di mettere in pericolo gli altri. E quindi ha legato la possibilità di frequentare i luoghi pubblici, compresi i luoghi di lavoro, al Green Pass. Che attenzione, non è il Green Pass francese. Io quest'estate volevo andare in vacanza in Francia e ho dovuto rinunciare, con mia grandissima gioia, sono andato a Mantova, a Padova, a Verona, a Venezia, mi sono ritrovato un po', mi riscoperto un po' l'Italia con i miei figli, perché i miei figli avevano fatto già il vaccino, ma occorrevano due settimane alla seconda dose. Quello era un Green Pass severo. Il nostro è un Green Pass, un po' più l'acqua di rosa, basta una sola dose, è un modo di dire, fate lo sto sforzo, facciamo l'ultimo miglio, siamo quasi fuori. Quindi a tuo giudizio non ha sottovalutato. La mia domanda però parte da una questione. Quando arriva la pandemia, il paese non sta bene. Su un paese che non sta bene arriva la pandemia. Quindi c'era già un malcontento, un disagio, al quale la pandemia non ha fatto che portare benzina, se è possibile. Assolutamente. E alle proteste che noi vedremo nei prossimi giorni e che racchiudiamo sotto il nome Green Pass, si aggiungono questioni vecchie. Per esempio, Luca Sappino ci parlava della Whirlpool. Luca Sappino ci parlava della Whirlpool.